Secondo te è Mastegna italiano? Dov'è Mastegna? L'Assassin Master di... Ah! No! Bambossa! È inglese! Perché Bambossa è un nome inglese! Sì, sì! Non dov'è? Oh, gibto polo! Di, lo', ti lo', ti lo'è... DIA, lo'è, ti lo'è... Di, lo', ti, lo'è... Ani, ii! Ti, ii! Oh, yeah! No, ma che momento devi schiacciare, hai introdotto il muro o prego? Neghi il suo potere Se neghi lo scontà del tuo cuore Neghi il suo potere Mi sto picchiando Mi sto picchiando Mi piace? Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vabbè, che finissimaggio Ma è bellissimo Adesso dobbiamo riempirlo di idee Ma è questa parte bella Ho pensato così Laggiù sceno di verde Poi qua, colori Questo è tutto colore, colore, colore E aria Ti facciano i soffitti alti Ci vuole aria Ci vuole aria pulita in cucina Fondamentale Poi qui Al centro del mio ambiente Una bella cucina E sopra La K Bella pulita Di design Insomma E poi là c'è il bar E il bar Qui il bar Vedi qua Qui il illuminato Poi aspetta, aspetta, aspetta Lagiù Vi facciamo tutto schermo Giorgio Vedi carco scudori Lì È bellissimo Perché puoi usare la tua Aumentare il tuo potere magico E dai milionati Sì, dai ragazzi Ma deve essere spaziale Fantascienza allo stato puro Ma avete presente il quinto elemento? Eh no Qui noi faremo il sesto elemento C'è proprio una cosa a cui l'uomo Non ho ancora pensato Io direi ben oltre i più gloriosi sogni Di innovazione e spazio emozionale Non so se mi sono Ho esagerato? No, 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 no Sei un genio E alcune stranezze Le perdoniamo E comunque Noi ti vogliamo bene Meno male Se mi ha studiato Sono sempre magistrati Come si vivrà In la casa del futuro Il futuro? Il futuro non esiste Il futuro è qui Adesso Scusa il passato Il passato? Di verdure Wow Che bello Ho dovuta fame Oh, meno male Che almeno qui sta per vivendo No, perché invece Abetta sta uscendo Il suo apprezzabile Umore da iena E com'è l'umore da iena? Imprevedibile E sanguinario Non lo già non lo vuole Vicky Oddio Guarda il top Wow Che bello Ops Che bello Questa base non sa giocare Questa base non sa giocare Lo appoggi un po' più in là Per favore A me non lo sa far male Sei maniacale? Cioè, feticista nella posizione Scusate, ragazzi Sei tornato dal Londra I miei stunni magistrali Qua Perché mi ha fatto prendere? sei un po' fusa concentriamoci qua dai già hai finito le bottiglie ciao 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 carim la cucina è la mia vita è la mia vita tutto scusate posso aiutare carim ho bisogno di qualcosa di speciale non lo so magari una cucina di cucina non lo so qualcosa di buono ma vero ma sti ok vieni per la casa torna 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 lo vorrà vedere cosa vuoi vedere cosa vuoi vedere è un spazio mi piace il spazio mi piace la scuola e la tavola molto grande che si 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 ci si 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 i la parte del piede e non sa poco armare se guarda farmato soltanto 32 contattino farmati 12 lo scudo mi guardate un attimo dreggio se guarda farmati No No Sto arrivando Attenti a Guarda che si te la frega più in red Eh ma io non ancora c'è Sì Allora L'abbia Fremonè da Allora 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 oddio fail I won't give up, I know what to do Dai, muori No No, vabbè, capo, non ho parlato Non ho parole, vabbè Schifoso, basta fidare di qua Questa è sfortuna, non è Caterina Deve poter chiedere fidendo Deve taglio benissimo Capo, cos'era? Mi sapevo, dai Adesso vabbè, che ti fai detto della vita Guarda come vedi, ho svegliato No, vabbè Mi, vabbè Mi, vabbè Wauri Let's keep Se non lo volete Io stavo venendo, non so No, non sono pure speed Ma è proprio speed Grazie Allora Io non ho già detto Donate Noi We relocate La sua parte La sua parte Allora qui La sua parte Il È la sua parte Le so E ora ro E Grazie Uccidi Drago uccidi Grazie Bravissimo Questa è tattica Giorgio Lasciare qui il drago Uccidi Vai 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 Un'altra parte Non vorrei che Catarina rimasta su check Cos'era quel tag? Hanno lanciato tutte le final Oddio non ci posso vedere I ritardati che non vengono ad aiutare a fare il tag Questo è male Ehm Cosa possiamo fare Cosa Che bello Cosa? 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 Oh 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 Non so Vado più veloci di te quindi Così 200 Facciamo il drago Quando avevamo di vedere Catarina Finito Facciamo il drago Da 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 Ciao, Paolo, 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 Paolo Un altro di Facebook, questo è il minimo in questo momento Ragazzi è arrivato Zed of the Hitler Il Dipendente Negro che facciamo Guarda mi sento incansato, ho cedo Chi mi viene davanti, lancia una ulti Uff, che sia Tornati in aca Wow, bello Sì, è vero No Wow Che bella questo di Wow Che bella Beautiful Sì You can do it Sì Beautiful Tieni un po' di video What? Ha flashato avanti What? Ma non puoi andare così lontano un minion Wow Che bella Se nemmeno male abbiamo pure chiudato Vabbè è perso questo Ma se ti piace tutto si vuole fare il tema Non vuoi flemare Stavo flemando, stavo soltanto pensando a quello di prima che è un gruppo di deficienti Stai flemmando Stai flemmando Stai flemmando Stai flemmando Dai Flesha Stai 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 Magari che se c'è il video che non c'è più Questa è tutta colpa di voi, ho guidato quella... Cosa è tutta? Ho guidato? Hai guidato? Hai guidato la confusa? Eh, cosa? Ho guidato la terina Eh? Non importa cosa dici, però finita la terina è tutta Eeeh, si è tutta È totalmente, poi no? Eh? Chissà, Guiti è l'occasione. Oh, no, no, no. No, ho scelto che ci vuoi. Io lo canto che c'è via. Un libro. Ah, veramente? Questa è la prima cosa? Eh, c'è qualcuno qua, eh. Ecco che era. Questa è la prima cosa. Questa è la prima cosa. C'è la prima cosa. Questa è la prima cosa. Questa è la prima cosa. Dietro il Paterina. Caterina. Non è Caterina. Dietro. Ci chiama a sapere dove vanno i nemici. Oh my god. Odabene. Esi? Ma perché è questo che la? Questa è schifosa. Sì, lo breakato. No, questa è lenta anche lo sai che manco ha spiorato i nemici e ti sono andato a sapere? bei wow window still a bit visto Listo Solutamente per te le blande Katarina è proprio pittata Alla fuus pittura il suo genere. il suo successo è diverso. Oh la fine Oh questo è anche mai da buona Wow, come questo è un'unica? Non è un'unica? Non è un'unica? Non è un'unica? Ok, 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 ok Ehm, Drake, come ho capito Raffa 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 Ok, eventualmente posso creare Quattro di nuovo Wow Ma non so dove Madonna Fantastico Stiamo andando a fermare Basta a fermare Non si chiama a fermare, si chiama a pensare a cosa devi fermare Le pensieri sono a fermare, quindi sto fermando Ehm, perché non vogliono le persone a dire di fare queste? Che bello, combo combo Ah, che bello Wombocombo Che bello If they stop me from pushing, go push other lanes, get Drake FFS Come dire FFS? Flappi stop Flappi stop Flappi stop Flappi stop Flappi stop Flappi stop Chissé Flappi estou Oh my god! Come super cari le mostri! Ma perchè non importa che i miei momenti sono lentissimi? Però non sto allargando! Oh no! Go away! Adesso che diciamo di ucciderle? No! Non vediamo, non vediamo, ma che andiamo! No vediamo, quello suonato il vivo! E uno spinto un frattamento e unto che si pove a gioca! E una volta che ci sono rosa... E un'ai bianco che ci sono... E un'ai bianco! E un'ai bianco che li! Ah, che andrò in frattamento sono a piacere! C'è, loro stanno vincendo con un Sion che continua a spammare Final Fantasy Sion Mastery, cosa ti potete? Wow Povero Mastery Pure te però! Oh my god Che shish però, sti facendo troppo bombo-bombo Oh di Dio Esattamente fuori di Dio Oh my god Oh Dio Ma che shish? Perché vuoi essere stato divertato? No Stai diciccolato Stai scattando Va bene, ciao Un buon Adesso si sente più buon Ma qualche leggero team work possiamo farlo Qualche combo tipo stun dopo stun, poi lo stuniamo un'altra volta No No Levatevi da la Anzi no, levatevi voi di me da qua Fatto su questo, se saremo dietro Ehm 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 Un buon L'ehm Un buon Ehm Un buon Un buon è bello io sto a 96 di potere magico dovevano salire? e c'è un po' di certi libri come ti è lanciato pure lui? come si è stiso? cos'era? basta non si attaccano i libri wow le black sei forte ne siamo accorti wow sei fortissimo le black non hai visto quante porte le black ha mancato soltanto due specie sui presi le ha mancanuto il cuore? wow catarina the killer assassino oh my god non si sa 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 dovete passare sul corpo della miscuno sto arrivando eh eh sto tutta l'ebola non so quanto ti venga a stare là ma mi fai proprio schifo mi fai proprio schifo mi fai troppo schifo lo sai un secondo potevi aspettare e dicevo la fai ma no non si sa che mi fai troppo schifo mi fai troppo schifo mi fai troppo schifo mi fai troppo schifo sono l'ho risposta che sono passino al suo drago bello ma se è lui il cazzano che sciega ma il mio è nemmeno no Oh mio dio ma ti minchia! Adesso ogni volta che uscirà la soglia se ci siede c'è io te lo faccio addosso Però io prima potevo pure uccidere e non ce l'avevo a fare Un secondo! Un secondo! Andai a prendere qualche drama Un tempo poi a lanciare un video addosso Vai a prendere un drama Anche loro sono giocato Sono giocato Oh mio dio Oh mio dio Noi non c'è male Ho sicuramente di scolato che Katarina ti ha mancatto con la data Dai! 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 Nooo ragazzi faccio tutto questo Madonna si fesi grandi Vai! Ok! Ok! Grandi! Ora si fesi questo Ok! Ok! Ti devi andare veloce! Anzi io vado veloce! Ok! 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 Io mi ero pure stonato, tutto il peccato Io le volte mi sarei piaciuto però la scuola Io ho 165 di potere magico, non ho comprato niente Non ho comprato praticamente niente per poter fizzare 4 مdles Oh my god Oi piace Non è stata una scolica dai via c'è comunque uccidi, uccidi qui ma perchè? ma non usci, sempre momenti che ti dovrebbe farlo no 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 eeeh fend, ah fend fend aspettati un vicar con la pifra, sarà qualche minuto due instanti no 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 eeeh fend eeeh fend vai, tu puoi kill her tu puoi kill him tu puoi kill them all bravissimo mentalismo ops sei pronto? sì mi ma no no i i i i i i i i è stato un drago Ehm, posso fare Caterina che mi fa il bravo? Qua tra i scogli Vai da voi Quella fai Ti ricordi la mia prima di stato L'ho lanciato poi La mia cato malissima Ammi parereco no 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 feeling fired like 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 when we're yeah you know you're you're come what that so wow that flash oh god oh god oh god oh god oh god oh god i just thought of the best idea for a new song who said a good place man oh dear i've missed a flash believe it's not like a chimo song yeah that's a stupid idea let's do it fenta 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 we want the fenta mmmm catarina hit on the camera tada e fenta oh my god c'è una bellissima catarina chi vuole è09 ma donna oh dear cos'è questo ehh quale Perché quando guardo sul corpo di Sion posso mirare Sion? Che bello! Noll Nooo Mamma mia, non so che uccide Bello Che bello Non ha preso lo stun per un millimetro Che ucciderlo per un millimetro Che bello Che bello Vabbè ha finito la bulls per caso Gli ha fatto spettato due item Lei ha finito la bulls Che bello Non c'è differenza tra noi due Giorgio Ragazzi questo è il suo problema Voglio vedere che succede se gli lancia una final Giorgio pensa a un vegar contro un altro vegar Si lanciano la final di cera Non c'è un vegario Oh 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 Mi hai sentito sì Giorgio mi sa che sono più forti dei nevla Se ci fai in caso c'è più video in dire Guarda non avrei meglio di capire Sì vabbè Ho capito Mi volete male Tranquillo non sciolta Katarina non sciolta Ma cosa faccio con le tue gizze Tadadadada We want to de penta Penta C'è certo Tadadadada C'è Katarina se lo t'hai dimenticato Wow Tadadada Wow Tadadada Ma tu sei vivo No tu non sei un champion Tu sei mu Tadadada 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 Ti morirà male Tadadada 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 Giorgio veramente io sono a livello 17 E tu non sei Ma fate tutti schifo di livello qua o Se io sono a 17 L'unico che è più alto di me è Ridio Ma te la voglio Tadadada Io sono in sufa Ragazzi ma puh stare Eh? Io sono in sufa Eeeh Quanto non mi un pofano. Diamo la sicura Passa che Una raga si può termini perché Hai 15 atti che could resti o questo è stato stato di alto per guida Perché Ho provato niente E questo è avuto Scusso No ho capito niente Non mi piace Lascia stare Cattarina, c'è Cattarina! Dov'è Cattarina? Oh my god! Sì, grazie! Oh oh, ok! C'è la stessa madre? Quasi! Non ce la fai, non ce la fai! Oddio! Ti ho detto che non ce la fai! Non ce la fai, non ce la fai! Non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai! Ok, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai! Hai usato di usare la bia, adesso... Ti riesco! No! Giorgio Conta, io ho tolto più vita io a Cattarina che te! Ma cazzo è questo bellissimo inibitore forse! Ma che baron! Che baron! Va! 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 Che cosa succede? Che cosa succede? Che cosa succede? Cattarina Dove! Noi, dai! Da! Soro! Yaaaa! Oh my god! Oh my god! Nooo! Grazie Io sto camminando a casa, ma qui sono veloci Jorgen guarda, guarda come cammina veloce E? Guarda come si veloce 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 Ah, do più veloce è io no 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 fuori è Catarina via dove eccola Catarina è sempre credente ecco non c'è scritto il delenno alla fine il pallone io non so cosa che posso fare se l'insieme ma io ho visto che l'ho scritto non c'è non c'è non c'è sono trolle che cosa è che 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 è è che è fa oddio è che guarda i masterì io ho 666 di damage che bello bello ma se io ma se io carriare è uguale madonna penta penta we want the penta we want the penta lol che bello no no prima c'avevo 666 di DM e son ce l'ho più perchè ho ciso di disfitto nooo vabbè vabbè Fai, and you'll die Fai, and you'll die She'll bury you alive Ooh, ooh, ooh It's too late, she caught a break You're dead when you see her face She falls back down Just run away, hide from right side She's coming after you Ah? Best of luck Ooh, ooh, ooh Usin Tommy, see you around sono i correnti, non c'è l'ocardità di io